Miuriel Milan, matrimonio possibile. Lo conferma Rino Gattuso al termine della vittoria contro la Spal, le parole del tecnico non lasciano due, il Milan sta pensando all'ex Sampdoria, può fare l'esterno o la seconda punta ma bisogna fargli attaccare la porta. Non so se l'abbiamo presa, di certo ne abbiamo parlato, come di tanti altri giocatori, la trattativa per Miuriel avanza stavita, l'attaccante ha giocato solamente 121 minuti in liga in questa stagione, realizzando un gol, meglio in Europa lì, 5 partite, 243 minuti, 2 gol e 2 assist. Il Milan è pronto ad abbracciare .